Quando passi davanti a questi alberghi da sogno, come fai a non desiderare di entrarci? Sarebbe bello, vero? Ma chi è che può permetterselo? Così, di solito, rimane solo un sogno. Sapete cosa fa B2Trip? Una cosa molto semplice. Avviene il vostro sogno e vi fa entrare. Come? Così. Dovete sapere che il grande incubo di tutti gli hotel sono le camere che rimangono vuote, perché di fatto a bilancio valgono zero. Così ho pensato. Sono tante le persone che come me vorrebbero soggiornare in hotel da sogno e sono tante le camere da sogno che rimangono vuote. Quindi, perché non farle incontrare? Insomma, in questa camera potreste esserci voi ora. Grazie a tutti.